Si chiama Filippo, ha 41 anni e viene da Palermo, anche lui è in cerca dell'anima gemella. Ciao Filippo! Ciao! Allora Filippo, tu sei in cerca dell'anima gemella? Certo! Quanto tempo hai che sei single? Ma circa già tre anni. Tre anni? E in tre anni praticamente non hai potuto trovare la donna che ti interessa? Sì. Io onestamente ho avuto, nei vecchi tempi ho avuto una vecchia relazione, però ho un bambino. E ci so precisarlo. Certo. Essendo che il rapporto non andava più bene, l'ho voluto tagliare questo rapporto che avevo. Hai fatto bene. Allora ascolta, come dovrebbe essere questo tuo tipo di donna ideale? Allora, la mia ragazza ideale dovrebbe essere dolce, sensibile, carina, pure che non è bellissima. Bellissima! Deve essere discreta. Basta che prima di me vuole bene a mio figlio. Esatto. La cosa importante è questa. Certo. Questa è la prima cosa che mi interessa a me. Tu sei originario di Palermo, giusto? Sì. Però sono nato in un paese io. Vabbè, questa donna dovrebbe essere qua di Palermo stesso, oppure va bene nelle zone limitrose? No, ma pure in qualche città. Basta che inizia il rapporto. L'età a me non mi interessa. O c'ha 30 anni, o c'ha 40 anni. Basta che... Per cui amiche delle spettatrici, se volete contattare... Hai detto che chiami? Vabbè Filippo. Filippo, 41 anni, di Palermo. Non potete fare altro come al solito di andare sul nostro sito che è www.strenamurisiciliano.it Andare nell'intervista di Filippo, scrivergli e aspettare che Filippo vi darà la risposta. Dico bene Filippo. Certo. Allora, in questo momento ci sono delle spettatrici che ti stanno guardando e stanno decidendo se chiamarti oppure no. Vuoi lanciare un messaggio particolare guardando la telecamera? Vai. Allora, carissima ragazza, se tu sei veramente interessato e hai l'opportunità di conoscermi, a me mi fa piacere volentieri. Aspetto una tua chiamata più presto, ciao. Perfetto, era un bel messaggio, complimenti Filippo. Per cui amiche delle spettatrici, contattate Filippo, 41 anni, da Palermo. Questo è tutto per la rubrica di Cuore Solitario. Alberto vi saluta e vi saluta pure... Filippo Barberi. Ciao, ciao. Siamo un amico di Milano!